bella a tutti ragazzi prima di andare a vedere il video voglio ricordarvi il mio codice creator xyuderone grazie mille per il vostro supporto attenzione ogni 14 giorni scade quindi non dimenticatevi di controllare se ce l'avete e ovviamente mandatemi una storia su instagram uno screen quello che volete io vi reposterò ma adesso video andiamo a scogliere a trovare la flinta cosa ne pensa che mi piace scogliere sono veramente fortezza mi piace ma un problema con il boss poi andiamo 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 tanto poi abbiamo l'isolone al massimo assolutamente sì mi sa che c'è un team c'è un team allora andiamo in questa casa in quella casa benissimo benissimo ho trovato subito una flint no way arrivo aspetta che secondo me sono bottazioni o snappi no no sono bottazioni non te lo fare non te lo fare c'è adesso che sto arrivando però fermo 90 bianco la votazione votazione mio vado di piccolo momento sniccio devi andare a trovare subito una pistola focile dall'altro vado dall'altro posso usare le granate ma facciamo a fare se vinco con solo a flint 5000 beats allora lei mi deve proteggere l'anno sì tranquillo io ne bingo io ne bingo che headshot io ho fatto con la flint ma non ero neanche vicino c***o ora ventù non gasiamoci non gasiamoci lei vada in giro con le armi potenziate così lei se io non ce la faccio mi aiuta ah ok io posso le armi sarebbe una grande cosa nel senso no non muoia ventù per cortesia abbiamo 5000 beats in paglio non si azzardi ok mi dia mi dia il tac che glielo faccio leggendario ma venga qua che le da un tac leggendario ok lei lei deve proteggermi si la protege come la proteggo mi è costato 600 gold gente gente o non c'è gente c'è una bid allora io già lunedì faccio fatica con brutal se ci si mette anche lei nel senso mi risulta complicata la situazione io glielo dico proprio con amicizia con amicizia le pastiglie le pastiglie almeno a due ore di distanza una dall'altra perché sono poi fanno male fanno male non ce la fanno gli sta dietro non li sta dietro andiamo ci stanno sparacchiando venga ventù sono un po freddo sono qualche si spavano per andarle a prendere i soldini per donare no ventuno è andato in edicola a fare ma non faccia cose a piedi ma come partito alle 8 di mattina no ma scusi la copro la copro faccio la baglia sopra secondo piano 180 a terra 1 quanto sono forte complimenti complimentissimi ok 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 andiamo si ventù bravo che mi piace come sta gestendo la situazione ventù che porto una s prendiamo questa taglia ma sono venuti fuori dal colosseum ok usciti vittoriosi si faccia molto si faccia questo vittorioso vini con me attento ho capito ma sono giusto ventù di venire con me di aprire te ventù non fare casino vai ad aprire col pompa che ti seguo da lontano no e ne faccia con il senso l'idea che gli facciamo la facciamoci quello facciamoci quello vieni si vanno sì che da solo è un solo andiamo a prenderlo e sta volando e per poteri non mi voglia vento io ho paura andiamo via e qua è qua porto let's go è morto eh vento 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 non aprire una qua andiamocene 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 è uno è uno è uno arrivo mi sembra no aspetta vento già non mi sta piacendo quello che stai dicendo Ecco il 32, il 22 Dov'è? 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 Qua sta scappando sto bottazzo Ci provo, ci provo Fermo Vai, vai, vada Vengono da me, vengono da me Fermo, fermo Mazzalo, mazzalo se non ce la fai Morto a terra, easy Vieni sotto la sabbia, sotto la sabbia che ce ne andiamo, vieni Andiamo, andiamo, sneak Dai, vai, 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 vai Non va sotto la sabbia, mia donna Sì, che va sotto la sabbia, impossibile che non va sotto la sabbia Sì, sì, adesso va, va Ci stanno cercando, non ci han trovato, easy Ciao belli Questo è quel figlietto tattico Sì, 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 dentro qua Guardi, guardi, guardi Sì, calmo, non faccia, non fate Ti piace sto sassolino Ma cosa sta dicendo, stia calmo No, ventù se ci sento Ventù che cosa stai facendo Tre team, siamo in sei, tutti team da due Se stavolta arriviamo terzi, leggiamo Mentre si iscrivono al suo canale Sì, per me, nel senso Perché arriviamo sempre terzi Dai, ventù, apriti a questi Apri a questi col pompa Ti sono dietro Ma quasi Ma quasi Ma ci abbiamo la taglia, non la vedi Venti, già Mi è tanto di questa Se non c'è il nome Sono qua, gli ho fatto un hit al volo Eh, attento Ti attento Eh, adesso prende tutto poco, porca miseria Calmo, ventù Vieni da me, vieni da me Oh 80 blu Non, non scudare Porca miseria Ah Ti prego ventù vinci Ti prego ventù vinci Ti prego ventù Ti prego ventù vinci Eh, non è così tanto facile Allora non pushare restami che sono ancora vivo Ti fermare non ti muo Questi Madonna Non è che si parla Mi sentono Ventù Ventù Non devo ricaricare le flit La auto La auto La auto La auto La auto Sparagli La sei Mi si è bloccato La auto Ma non è come una fighetta Andiamo Ok Non corre Non corre, aiuto 101 Non corre, non corre Non corre, non corre A terra 1 Bravo ventù Non mi faccia ridere Ma non mi faccia ridere Ma lei urla come una fighetta Non urli così Andiamo Ventù ricompattiamo Ci ricompattiamo Ci per carità di Dio Venga con me Venga con me Venga con me Non mi faccia ridere Ma cosa Ancora Ma perché urla in quel modo Arrivo Devi ammazzarli Devi ammazzarli Ventù Ammazziamo 2v2 Eh, con questa vita è un po' difficile Allora, lei deve fare un headshot a 1 Vai Dov'è, dov'è Ma sono sotto, sopra Sotto, sopra Ma prego venga qua Ma prego Ventù Non ce la faccio Non ce la faccio Ma le dì a me i materiali Ma non glieli do a lei Ecco ora Perché non i teno lei Me lo dica Vada Ventù Ma cosa Prima vado Indietreggiamo, indietreggiamo, indietreggiamo Andiamo Andiamo di qua Ventù Ho bisogno che tu Ho bisogno che tu li vai sotto Ventù 35 a 1 No, stai a Ventù Betto di me 34 anche al suo Arriva, eh Divo, divo Ventù devi entrare lì col palo Tu vai, dove Ah, l'altro, pezzo di me No, Ventù non riesco Questo non è... No, no, Ventù, no Vabbè, dai Ce l'abbiamo comunque provata a fare, dai Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti